Senzalmente dovrebbe essere una risorsa decisabile, una risorsa che ti porta anche delle entrate, perché comunque puoi venderlo, perché c'è sempre il discorso di non portare i forni a troppe temperature utilizzando questo una volta E, comunque è di tutti i dati di realtà. Il nostro vetro è di classe C probabilmente, se la classe A è un vetro perfetto e la pagano a 100 lire, questa qua è una classe C e te la pagano a 20 cento lire. Questo di chi è? Questa è un'altra domanda che mi facevo. Di è questo? Perché di solito io, diciamo, da altre parti, questo qua, adesso questo, 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 questo qua, non dico, cioè come comitato, se è la...